Salaceta Il tempo il Perugia aveva la possibilità di affrontare Gian Domenico può mettere in mezzo, l'uscita di Frey, sicuro, bravo Sì, ma da questa posizione Gian Domenico se... Almeno se teneva parte, può essere sposato Se l'espo sta Cannavaro, controlla Manfredini, può calciare sul primo palo Quasi in attesa, la confusione da parte di Frey, sei lungo Ecco la battuta per Salaceta L'uscita di Frey Sale a quota 33 punti